No, 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 stavo, no, no, quale emozione? Non è emozionato. Di dove sei non te l'abbiamo chiesto, giusto? Sì, sì, no, no, ce l'ho chiesto io. Eh, io davvero? È di vicino a me. Mi sei emozionata pure io, la tua amicinata. Mi sei emozionata anche Anna. Come? Anche perché poi ha visto Mauro. Hai visto Mauro prima? Eh, è tragedita che avete a fare quando volete. Ma vabbè, comunque. Mauro, la sei in me. Vogliamo fare ancora un applauso alla giuria? Sì, 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 un bel applauso alla giuria. Non Facile questa sera, composta dalla professoressa Letizia Licasale, dottorare nell'Antonio, Guerrese Maria Rosaria, Edgidio Viceconte, Troccoli Giuseppina, Rossino Antonella e Carrano Gerardo. Ricordiamo, hanno delle schede che partono da 5, arrivano a 10 massimo come voto, poi verranno sommati da Angelica, giusto? E ringraziamo anche Rosa Labanca che fa la valletta, a trasportare le schede dalla giuria alla signora che fa la contrabilità. Facciamo un applauso. Ci siamo quasi. Prova, 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 prova. Si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Ok, si sente. Basta. Siamo pronti? Lasciamo suonare... Vai. Pennella Manuel, unica di Antonello Venditti. Te lo do io. Non lo puoi tenere? Ti serve una mano? Ti presto la mia? Aspetta, devi cantare pure. Non lo puoi tenere, non lo puoi tenere, non lo puoi tenere. Noi due, due persone, di tutto da in nostro soldi, noi due che direte, non lo puoi tenere, non lo puoi tenere, non lo puoi tenere. Noi due due attende, non ti puoi tenere, non ne puoi tenere, non lo puoi tenere. E tu, e tu, per te qui mi sentiti un'altra storia. E chi stai? E chi ti prenderà? E chi ti striscerà? E chi ti griderà? Sei bellica Sei tanto d'amore e passa il tempore e gira il tormento E se ti chiamo lo so che trovo sempre sbagliato Perché non ci prendi? Perché non vedo? Noi due, due fonde, io per te stesso l'amo più E dove sei? Se scrivi un'altra storia con chi stai? E chi ti prenderà? E chi ti striscerà? E chi ti griderà? Sei bellica E chi ti prenderà? E chi ti prenderà? E chi ti prenderà? E chi ti striscerà? E chi ti griderà? Sei bellica E tu dove sei? Se scrivi un'altra storia con chi stai? E chi ti prenderà? E chi ti striscerà? E chi ti griderà? Sei bellica E chi ti prenderà? E chi ti striscerà? E chi ti griderà? Sei bellica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti